Ciao a tutti, volevo parlarvi e presentarvi questa iniziativa particolare molto carina che si darà a Narni l'8 gennaio del 2023, l'inizio del prossimo anno, quindi l'iniziativa si chiama Narniopoli e innanzitutto vi lascio in descrizione il link della locandina per scoprire di più e la città di Narni diventerà un vero e proprio tabellone del classico gioco del Monopoli dove si faranno dei giochi moderni, dei giochi antichi per adulti e per bambini come la classica Corsa d'Anello e all'interno di tutti questi giochi ci sarà anche il Subuteo e sarà presente Marco Perotti in rappresentanza del suo club che è quello di Terni, il Subuteo Club Ternana 2014 e quindi ci sarà anche il Subuteo con Perotti come delegato a rappresentare il suo club in questi giochi che si darà a Narni dall'8 gennaio.